Con il nostro martello, ah ok, gli oggetti Tutto normale Ma la vogliamo smettere, polizia Scusi eh, ma c'è il ladro in parte là e lei non sta lì a far nulla Mi sono ricopenetrato male Mi sono ricopenetrato male con le pareti Oh mio dio posso veramente dare da mangiare al gatto Ecco qua, solo l'ostura cessi ci potrà salvare Vai, ma scusa Ciccia, mi stai a piedi scalzi nei bagni sporchi Di piscio, 2000 dollari Upgrade finale, oh wow Ora ne possiamo mettere una qui Ed una dietro, Daisy Ti sto odiando profondamente Premi è per ripararlo, in che senso ripararlo? Ma era rotto? Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su Pumping Simulator 2 Oggi col 30% di pompaggio Molto poco family friendly In più Figlioli, di solito inizio l'episodio Con una nuova giornata lavorativa Questa volta no, perché ho aggiornato il gioco E hanno, maronne Hanno aggiornato talmente tante cose Hanno aggiunto una sfaccetta di Sì ora sto facendo la intro e faccio i cazzi suoi però Dicevo, hanno aggiunto un sacco di nuove funzionalità Sistemato un bel po' di problemi Aggiunto una marea di oggetti E chi più ne ha più ne metta Ok, i corrieri Amazon mi hanno consegnato i lampioni Guarda, li possiamo mettere letteralmente dovunque Alleluia Qualcuno ha ascoltato il consiglio del telone Che suggeriva l'installazione di lampioni Perché la sera non si vede una stragrandissima Quindi ne ho comprati giusto un po' Da mettere nei vari punti tattici Sì ne dovrò comprare 8 miliardi È abbastanza ovvio Oh, ora il camion per la consiglia del carburante Si ferma in parte Al Serbat Aspetta fammi vedere se ti hanno aggiornato ciccio No, c'ha sempre l'aria da malvivente Ma vabbè dettagli Ah, a posto Allora, prima di tutto gli affari Stanno andando alla grande È qualcosa di incredibile Non ho mai visto tante auto Hanno anche aggiunto nuovi clienti Ecco appena detto E ne sono uscite due uguali Ma vabbè dettagli Questo è nuovo E dovrebbe essere una sorta di prato erboso Che possiamo mettere Tutto attorno alla nostra stazione di servizio Ah, gioco dice di metterlo direttamente qua Wow Con che texture avvenieristiche Cos'è la Unreal Engine 5? Quindi quella è la parte termina Buongiorno signore Come va? Tutto bene? Viene a dirubare le povere genti E invece no Ha vinto un trauma cranico Aspetta che ho altri lampioni Che possiamo segnacare anche qui Ottimo Poi abbiamo sempre sto prato fiorito Ma la zona centrale Dovrebbe... Perché non va lì? Perché non va lì? Dovresti installare... Oh, ok È un pochettino baggata Poi non so se ci cresceranno dei fiori O rimane solo un po' di erbetta Credevo che sarebbe stato qualcosa di nettamente migliore Voglio essere onesto con voi Vi faccio vedere un po' di cose Che ora possiamo ordinare su zona Ma gli scaffali doppi Nelle zone centrali Sono ad esempio perfette Questo non so cosa sia Ma lo compriamo a prescindere Ora abbiamo anche il pannello solare Mmm... Ci potrebbe far comodo per risparmiare un po' di corrente E possiamo pompare le gomme dei nostri clienti Abbiamo il condizionatore Beh, per 300 dollari mi pare un ottimo investimento Lo sprustino per l'acqua mi fa pensare che ci saranno gli incendi Porca la miseria Eeeh... I megafaretti Ok, un megafaretto lo compro E come per magia ho speso 1300 dollari Ma tranquilli che nel frattempo la Daisy ha venduto una marea di roba Guardate che roba 6700 dollari Mai viste cifre del genere Sì, lo so, devo rifornire tutti gli stand Non rompetemi le balle C'è decisamente troppa roba Oh wow Questi spotlight li possiamo installare letteralmente dovunque Mmm... Buongiornissimo Ok, è un faretto Credo bello potente Che ci permetterà di illuminare meglio E allora vedo che non hai capito la lezione Aioh! E basta! E basta veramente però Dicevo che ci permetterà di illuminare meglio effettivamente La nostra stazione di servizio Poi abbiamo il condizionatore Che possiamo mettere direttamente qua Sopra la Daisy Così mi si mantiene tutta bella freschetta d'estate E proviamo anche ad installare questa shelf box Può essere piazzata tipo qua al centro Signore, per favore Non ci vada contro Ehm... Vorrei spostare effettivamente questi scaffali Vediamo un po' se io li colpisco con il nostro martello Ah ok, gli oggetti Tutto normale Tutto normale Praticamente cadono a terra E ci ridanno direttamente le scaffalature Ah ok, distruggiamo totta Daisy dammi una mano Rivoltiamoci contro i poteri forti Ma vabbè dettagli E questi li possiamo mettere direttamente Ah no, aspetta aspetta A parete E questo peraltro È lo stesso scaffale Solo che gli ho tirato una martellata Da 100 dollari E l'ho reso effettivamente più carino Non credo contenga più oggetti C'ha solo la sbarrettina davanti E basta La stessa cosa la possiamo fare anche col frigorifero Da quello che ho visto E un po' Ehm... Hello Hello Non ho capito quale sia la differenza Ma vabbè dettagli Ehm... C'ha finta di nulla Allora, prima che qualcuno venga a rubarci le robe Datemi mezzo secondo che cerco di riordinare la mercanzia Ad esempio possiamo adesso dire al cassiere Che su questa scaffalatura Lui ci deve mettere solo un determinato tipo di prodotti È carina come idea Hello Hai rotto il cazzo mo Ai, nel frattempo è arrivata la polizia Maledetti rompiscatole Ok Ehm... Da quest'altra parte invece mi metti l'olio per motori E il glass cleaner Oh Vabbè cos'è che sei qua? Ah, un altro scaffale? Il ladro, il ladro, aspetta Maledetto rompipalle Ma la vogliamo smettere Polizia Scusi eh Ma c'è il ladro in parte a lei E lei non sta lì a far nulla La mia scaffalatura doppia Con qualche costa E la possiamo ovviamente mettere Al posto delle scaffalature precedenti Dimmi che posso tirargli una bella martellata Da 100 dollari E parapapà Wow Ok, sto posto sta migliorando A vista d'occhio figlioli Ti meriti anche tu una bella martellata Brava scaffalatura Abbiamo ancora un'altra scaffalatura Ma escono dalle fottute pareti in pratica Aspetta, aspetta, aspetta Mettila qua in angolino Non ha trovato nulla di illegale Ma Mi dica qualcosa che non so Buon uomo Aspetta un secondo che abbiamo la monnezza Che ci esce dalle fottute pareti Vabbè insomma dei fottuti bidoni Oddio Preso in pieno l'auto del cliente Come è giusto che sia Inoltre ora posso anche migliorare i bidoni E parapapà Wow Decisamente è molto meglio Questo conteneva 20 oggetti Se ben ricordo Anzi 15 oggetti al suo interno E questo ne contiene 30 Sviluppatore Fa che sei proprio un bravo ragazzo Figliolo Ma porca la visita Sono proprio contento Che succede? Ah ok Credevo che fossero tutti fermi Siamo giù di carburante Abbiamo finito il carburante 1300 dollari di carburante Non dico altro Stiamo rifornendo decisamente troppe auto E questa è la seconda volta quest'oggi Che devo riempire completamente i nostri serbatoi È assurdo ma è così Daisy Nel frattempo ha incassato altri 2000 dollari Grazie Daisy Signori portate pazienza Un attimo E sto subito da voi Ah se vedete bene in alto a destra Ora ci sono 6 stelline E non più 5 Ottimo Senti io gli tiro un'altra martellata 1050 dollari per l'upgrade Aspetta un attimo T'ho sentito Ma non mi urlare mentre sei dietro Ma allora sei scemo Ma porca la miseria Ok un'altra scaffalatura doppia Mi ero dimenticato di averne ordinate così tante Appena possibile dobbiamo anche sistemare Quegli straccocchi di bagni Ciccio ho già fatto io Alex Alex torna al lavoro Non rompere le balle Ottimo Adesso le tenebre calano alle 18 E non alle 18.30 Però grazie ai lampioni Potete vedere che la stazione di servizio Gode di una migliore illuminazione Non è ancora perfetta Ma in qualche modo ci organizziamo Aspetta un attimo Adesso abbiamo lo Stura Cessi Oh Aspetta 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 Forse possiamo sgorgare Quei maledetti gabinetti In qualche modo Tieni premuto eh Ok vai 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 E ok Wow Ora è molto più semplice Oh maronne Che è successo qua dentro C'è pieno zeppo di monezza Dovunque Potreste non pisciarmi sul pavimento Inoltre se notate in basso a destra Adesso i nostri oggetti Hanno una durata Sì lo so che sei stanco ciccio Dopo ti mandiamo a dormire Quindi mano a mano Che li utilizziamo Quell'indicatore scenderà E noi dovremo ricomprare Il relativo oggetto Questa Ve la potete rifarmiare Porca la miseria Così mi fate buttare via Il vile danaro Ma non è finita qua Perché sempre su Zonama Sotto il market Hanno aggiunto nuovi prod... Ma posso fare commentare Senza te che spunti Ognuno virgola Otto secondi Cos'hai rubato stavolta Ma dai È solo un po' di erbetta Wow Che spavento Nel frattempo Sembra che abbiamo levelappato Yey Oh Direi veramente Un'ottima notizia C'è comunque troppa Monnezza in giro Per questa stazione di servizio Allora Sono le 20 e 13 Oh Mi piace il lavoro Che stiamo facendo Allora Vediamo di andare a casa Anzi Grazie a Quello che abbiamo scoperto Lo scorso episodio Ora sappiamo di poter comprare Al bazar Sia le droghe per madre Che i fiori Per la nostra ragazza Si sa mai che inizia a darcela Oh no La venditrice del bazar Non c'è la sera E neanche il dottore No Ok Devo venire qua di Di primo mattino Oh Almeno c'è il venditore di hot dog Vabbè no Questo tu vendi droghe No No Guardi Mi sa che ci Ci siamo un attimino fraintesi Come Come avessi accettato Buon uomo Tesoro Sono a casa Come va tutto bene Oh riesco a vederti un attimino meglio Il buio Meglio così Tu resta lì a fare la zombie Mi raccomando E come per magia È l'alba di nuovo giorno Io ho oltre 7000 dollari Nel conto in banca Ok datemi mezzo secondo Che a sto punto al bazar Ci vado di primo mattino Buongiorno signora Mi batteva la fiacca ieri sera Eh Ok Beh posso mandarli a casa In qualche modo F per mandarli a casa Ottimo E la stessa cosa facciamo anche qua Dal dottore Ah ne può vendere solo un tot Al giorno Vedete Oh Questa Questa è una bella Bella limitazione Ok Vediamo di tornare alla stazione di servizio Altrimenti i ragazzuoli qua Mi battono la fiacca Comunque sì La maggior parte delle entrate Le otteniamo direttamente Dall'immane quantità Uuuuh Di benza Che serviamo ai nostri clienti Allora Ragazzi Dobbiamo assumere assolutamente Qualcun altro Uuuuh Il limite massimo di lavoratori è salito a 10 E dimmene ste cose Allora ci serve assolutamente Qualcuno che si metta a lavare le auto Perfetto E qualcuno che pulisca sti schifo di pavimenti Oh Un manager Cosa fa il manager Forse porterà i pacchi di Amazon Direttamente in magazzino Oh oh Mi dicono che dobbiamo pagare le bollette Va bene A quanto ammontano Porca la miseria È da quando abbiamo le auto elettriche purtroppo E abbiamo anche consumato un bel po' d'acqua Ottimo Ora che abbiamo comunque due nuovi dipendenti Si potranno direttamente occupare loro Delle relative mansioni Se ho visto bene posso levelappare il nostro meccanico In effetti sì Per la modica cifra di 1000 dollari E non so onestamente cosa si è cambiato Questo c'era anche prima Giurerei di no in effetti Questa la possiamo migliorare ulteriormente Gioco dice no Aspetta un attimo Dimmi che posso spostare questo Oh Finalmente Questa notizia mi piace un sacco Ecco qua No signora si levi dai maroni Stoccarello E super Oh mio dio Mi sono ricopenetrato male Mi sono ricopenetrato male con le pareti Mayday aspetta C'era il comando sul tablet Resetta la mia posizione Dove Ah mi hanno mandato su nel portale Ok 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 E ti pareva che dovevo baggare il gioco Ottimo Se ho fatto la cosa corretta Adesso Tutta la merce ci verrà consegnata direttamente lì Quindi Di ritornando a noi Possiamo ordinare Non sfaccelo di noodle Abbiamo le birrette Il burro Ottimo Il ketchup La senape I detergenti Il caffè filtrato E ho già speso altri 1000 dollari Direi che ci possiamo accontentare Inoltre Visto che ci sono problemi di spuzza Direi di comprare un po' di deodoranti automatici per gli ambienti E vorrei proprio mettere un bel cabinato Ma mi sa che non conviene Un distributore automatico Beh se ci permette di guadagnare Passivamente del denaro Della serie Perché no Daisy Ciao stellina mia Che pale La merce continuano a consegnarla lì Per un secondo ci avevo sperato Eeeh Niente da fare Dai Daisy Ti do una mano con i detergenti Aspetta ma li possiamo tipo mettere qua Va che figata Ma no Questo è lo stand principale Quindi la Daisy ci ha già messo tutto il cibo Io ci metto i ketchup Ottimo E poi abbiamo anche il resto dei prodotti Daisy Ho dei noodle anch'io Ecco qua noodle come non ci fossero domani Noodle e ketchup Il binomio vincente In questo frigorifero invece mettiamo le birrettine Oh mio dio Ma se so Comprati tutto Ci hanno svuotato i frigoriferi Porca la misera Daisy Aspetta 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 ci penso io Aioh Hai veramente stracciato le balle Ma te ne vuoi andare Ah questo è il distributore automatico che possiamo piazzare Mi dicono dalla regia in parte al nostro bagno Ah non ha un bell'aspetto Tuttavia lo possiamo migliorare per 300 dollari Vediamo se gli diamo una svecchiata Wow Ok Rispetto a prima è completamente nuovo Ah adesso ho notato a destra I ladri visiteranno più spesso La tua stazione per almeno due giorni Che culo Quindi direi di installare Molto più rapidamente i vari dispositivi E vabbè Hai bisogno di un air freshener Ah lo devo comprare Scusi pensavo fosse incluso nel prezzo Ci ho pensato solo adesso abbiamo due bagni Porca la miseria ce ne serviranno almeno due E però col seno di poi siano tutti bravi T'ho visto non ti vengo a picchiare perché non c'ho voglia E qui invece abbiamo i filtri I filtri per il caffè No vanno Ah ok li possiamo mettere tranquillamente sugli stand Sacrilegio Tu non sei stato upgradato Ok decisamente molto meglio Portate pazienza Daisy Dimmi che hai incassato 3500 dollari Daisy Miseria ladra sono un momento proprio felice Allora datemi un secondo Good morning tua nonna in cariola Porca miseria questo l'hanno già riempito Aspetta Ok recupera la monnezza E fai un bel upgrade di sto cocchio di bidoncino Ottimo Fagli un altro upgrade 200 dollari ben spesi Ora contiene 45 oggetti Voglio vedere se lo riempite ancora Maledetti clienti rompiballe Da che ti rimbalzo No per pochissimo Oh wow adesso che abbiamo il dipendente Presumo che le auto verranno pulite molto più rapidamente Vero ciccio? Fammi vedere come schizzi tutte le auto dei clienti Beh di certo lo farà più rapidamente di me Olè Perfetto 38 dollari guadagnati Con estrema facilità Ok le nostre auto non stanno più aspettando Direi molto ma molto bene Tuttavia abbiamo finito il carburante Aspetta Altri 1300 dollari di carburante Guarda come scende l'indicatore Ma mi prendete per il chiurlo Lonino Devi fare altri ordini Perché abbiamo finito tipo tutto il cibo E niente ragazzi Qua si compra a manetta Senza il benché minimo rispetto Peggiore delle ipotesi Ci pensa la Daisy A rifornire gli stand Oh canaglia Non immaginavo che sarebbero arrivati Così tanti clienti Ecco qua Altri 1000 dollari buttati nel cesso Ma c'è anche un gattino Ciao micio Che fai di bello? Vuole del latte O del tonno? C'ha un po' di fame Devo anche nutrire il gatto Beh per tua fortuna ciccio E effettivamente ho comprato del tonno No volevo prendere solamente una scatoletta Ecco qua Grazie molto gentile Micio Oh mio dio posso veramente dare da mangiare al gatto Ecco qua Ma è la cosa più bella della vita E ora lo possiamo anche carezzare Ah piccolo stellino Ci tengo più al gatto che alla fidanzato o mia madre Questo la dice lunga ma vabbè dettagli Ah posto scusate per l'attesa Sì ma che panicume Anzi Se ho visto bene adesso sugli upgrade Possiamo aumentare la capacità Oh marone con questi pacchi non me lo dici Del nostro serbatoio Quindi Ehi Quanta boia di roba non mi avete consegnato Aspetta che do una mano alla Daisy Altrimenti qua i ladri Mi svaliggiano anche lei Ecco qua Non sia mai che non abbiamo le birrette Le coca cole Pronte all'uso E chi più ne ha Più ne metta Mi sa che ho un po' esagerato Effettivamente con le birre Mi avete già svuotato questo Un attimo Pazzi Pazientate Porca miseria C'avete chiaramente Uno straccocchio di problema Ecco qui Tutto pieno anche questo Va che hanno svuotato Tutti gli stand Daisy Daisy c'è il ladro Porca la miseria Perché non eri fuori a guardare Signore scusi Si è dimenticato questa mazziolata In testa E che cocchio Ma mi hai rubato i pomodori Ma sei proprio un pezzente Maledetto E un attimo Ciccio Zio Billi Oh Sta gente non riesce a pazientare Dieci secondi Vi giuro Da quando abbiamo migliorato La situazione di servizio Invece che Avere una vita più tranquilla Mi sale un'ansia Nettamente peggiore Ecco qua i detergenti Sì ma Adesso che ho comprato La roba nuova Hanno finito La roba vecchia Che avevo Comprato pochi minuti fa Ma possiamo andare avanti così Oh Aspetta Ho un'idea Molto ma molto geniale Ovvero Compriamo più Di quello che ci serve E facciamo una sorta di Di magazzino Ok Mi sembra la tattica vincente Solo che di sto passo Finisco tutto il denaro Così dove sta andando di bello Sta cercando una mazziolata Eccola qua L'ha trovata Brava signorina Scusate ma io non avevo assunto qualcuno Per ripulire i pavimenti Che la barretta dello sporco Sta salendo Quindi Sono un attimino confuso Allo stato attuale Ah Buongiornissimo Vabbè Facciamo finta di nulla Nel frattempo Ho comprato una quantità Spropositata Di gabinetti Lavandini Saponette Insomma Avete capito Oh buio miseria Mi hai fatto cagare in mano Oh Gesù Va che macello qua dentro No 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 Tira fuori lo sturacessi Solo lo sturacessi Ci potrà salvare Vai E Oh Vabbè Possiamo anche migliorare i gabinetti Ma mi prende in giro 200 dollari per migliorarlo Vediamo un po' Che bello Scusi signora Non volevo sbirciare Porti pazienza Ok Questi sono gabinetti Di un certo livello Dimmi che upgradeandolo Lo puliamo No La vita non funziona così Ecco qua Perfetto Aspetta Aspetta Il ladro mi ha rubato i gabinetti Signore Metta giù quel gabinetto Potrebbe essere pericoloso Visto Visto Ha rubato veramente un gabinetto Io dicevo per dire Tuttavia ho la vaga impressione Di aver comprato Gabinetti extra Quindi Spare e bang Spare e bang Ok spendiamo un altro po' Di denaro Per fare l'upgrade Dei restanti Gabinetti Ecco qua Ora provate a lamentarvi Posso migliorare anche i rubinetti E un po' Spettacolo Il sapone per le mani È praticamente finito Dimmi che ne abbiamo da qualche parte In effetti non vedo nulla Porca la miseria Ah Perché la Daisy O qualcun altro Probabilmente me l'aveva Spostata in giro Ecco qua Lasciamolo direttamente qua sotto Daisy Daisy Dammi un po' di denaro Te lo chiedo in ginocchio 3200 dollari Sì grazie Li prendo molto ma molto volentieri 100 euro che sta per arrivare il ladro Lo sapevo Lo sapevo Ok si era bagata per un secondo Mi ero spaventato È che i gabinetti non mi servono più Ok vediamo di installare anche il dispenser Dei tovaglioli Che non penso sia upgradabile No Tuttavia lo dobbiamo ovviamente Rifornire Noi Alle E metti in parte Lo scatolone Gesù Avete spisciacolato dovunque Ma io sarei tipo il manager Non dovrei abbassarmi Signorina Porca la miseria Buongiornissima Scusa Ciccia Mi stai a piedi scalzi Nei bagni sporchi di piscio Ma che cocchio Ma che problema hai Oh miseria ladra Un altro ladro Ok sapete che vi dico Lancia gli scatoloni Non me ne frega niente Così almeno ti devi fare Oh marone No li lanciati troppo in là Oh rotolano decisamente troppo Ma porco canaglia Non è stata una buona idea Sono stati commessi degli errori Che poi la tizia che pulisce i bagni Continua a chiudermi le porte E ogni volta Io le devo riaprire Vabbè mettilo lì Anche se non c'è il rubinetto Aspetta che faccio una Upgridata anche al bagno Ma hai visto un bagno così bello Di certo non in questo gioco Ma mi lasci stare un minuto Basta Vi giuro Non è tempo neanche per respirare Lancia il gabinetto Oh il mio gabinetto Non l'avrà nessuno E che cocchio Come vanno le cose qua dentro Oh Gesù Hanno svuotato di nuovo Una parte degli stand Guarda Se sono comprati tutto Ok Ok Una cosa per volta Vedo già il ladro che sta arrivando E abbiamo quasi finito il carburante Ok Ok Ordina più carburante Qui là Adesso abbiamo il 360% E soprattutto Ordiniamo letteralmente Ogni singola tipologia di cibo Presente Su Amazon Si divertiranno i nostri dipendenti A riordinare il tutto Ciccio So che stai arrivando 2300 dollari Porca Tua madre A cui hanno rubato la virginità Porca la miseria E no Rubinetto Cabi Ma hai fatto cagare in mano Razza di idiota Non puoi far da solo A posto Abbiamo rifornito di nuovo Fatemi finire i lavori In quel cocchio di bagno Gioco Ti vedo confuso Perché mi dici di mettere i lavandini In parte ai lavandini C'è affitta di nulla Gioco ha avuto sempre problemi Oh Adesso ho capito Le porte si aprono in automatico Non c'è bisogno di cliccarci sopra Un marone Che è stato? E che è un'armata di corrieri Amazon Si stanno compenetrando anche tra di loro Aspetta che do una mano alla Alla Daisy O quella mi impazzisce Poverina Fai il burro magari Mettiamolo in frigo Voglio dire E ci sono 40 gradi all'ombra Mi sembra effettivamente La soluzione migliore Ma di questo passo Dobbiamo comprare Un altro cocchio di frigorifero Non che ci siano problemi Tanto sto spendendo Sfaccello di soldi Tua nonna Col culo spanato E me l'ho detto E basta E che cocchio Il mio maledettissimo lavandino Guardate che roba Mi avvicino la porta E Si è aperta in automatico Ops Mi sa che qua Mancano un bel po' Di lavandini Questo è poco Ma sicuro Ecco qua Ottimo Qualcuno serve del Sappone per le mani Pieno Pieno E pi Minchia La tizia ha rifornito Tutto per davvero Do giusto una Upgradata anche a questo Ottimo Mi ha sturato anche i cessi Signorina Dovrebbe essere un po' più veloce A sturarmi i cessi Però porti pazienza A parte che i nostri clienti Cagano come degli elefanti Miseria ladra Aio Che vai a far Babbo Natale Ho 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 No Come ho fatto a mancarla Aio Ma che è diventata immune Alle mie mazziolate Tante ne ha prese Ora mi piazzo qua In attesa che arrivi il ladro Mi sono completamente Dimenticato Che dobbiamo comprare Anche i detergenti Tutti i detergenti A cosa servono peraltro Ah air freshener Ecco qua Me ne servono Almeno due Decorazione con il gatto La voglio Sono 275 dollari Spesi in maniera Intelligente Poi abbiamo un po' Di lampadì Aio Aspetta Non è abbastanza soldi Come non è abbastanza soldi Daisy Portami qua subito il capitale Porca la miseria Ma dai Ma basta Spero vivamente che l'ordine Resti in memoria Ok La donna delle pulizie Si occuperà del resto Oh brava Daisy 3900 dollari Che finiranno molto Ma molto in fretta Ecco che sta tornando di nuovo Zonama non mi ha mantenuto l'ordine Dicevo Volevo comprare un po' Di lampade E Anche da portare a casa Che non mi dispiacerebbe Proprio per nulla No No Ti baggo il cugino Di secondo grado E mo basta veramente Eh dai Per un po' di energy drink Si ci serve decisamente Un nuovo Frigorifero Daisy veloce Ciccia Ah quanto pare Non usa più la levitazione Vi ricordate che Nelle scorse puntate La Daisy Abbiamo scoperto essere Effettivamente Un po' Harry Potter Il prossimo che entra E dice E lo giuro su dio Che ho una reazione Molto più volenta Del previsto Mi avete svuotato Tutto di nuovo Pezzenti Senti Sgnacca dentro I sandwich Ottimo Meglio che nulla Occhio che il ladro Sta per arrivare Se mi ruba la decorazione Col gatto Mi incocchio proprio Una cifra Allora Vedo niente Questo lo volevo Aio Non vedo niente Dicevo Questo lo volevo mettere qua Perfetto Ah ce n'è più di uno All'interno della confezione Quindi lo possiamo Sgnaccare Direttamente in quest'altro bagno Oh Ok Lasciali pure qua Ottimo Vabbè Ma il ladro Non ci ha derubato Ma come Il ladro con la coscienza E ti prendi una mazzolata Comunque Ah perché sono scattate le 18 E giustamente Il ladro Mi ha finito il turno Vabbè Ma la decorazione per il gatto La devo portare a casa Aspetta un attimo Ora ho capito come funziona E basta Ma porca la miseria Mi state facendo triggerare Malissimo adesso E che stracocchio No vi giuro È diventata un'ossessione Ok Aspetta che finisco intanto Di installare anche le luci qua Dicevo Ho scoperto Che posso Tranquillamente Tirarli fuori Dalle scatole No Perché queste cose Le scopro solo dopo Quindi Questo lo possiamo Probabilmente portare A casa nostra Non lo sapevo E abbiamo bisogno di una sedia Un monitor Un computer Vi dicendo Per fare il set completo Oh no Ok Dopo lo porto a casa Lo so che ci sono Ciccio Porta pazienza E che abbiamo i ladri Pronti a romperci Le palle Fino allo sfinimento Io devo finire Di installare le lucine All'interno del Negozio Aio Dove stai andando adesso Pensavo rubasse solo Fino a qui Non pensavo che Si sarebbero fatti Così tanto furbi Ok Un'altra lucina qua In esterno Oh Il sistema di illuminazione È veramente migliorato Un sacco E voilà Ottimo Questa zona Della stazione di servizio È completamente Illuminata E figlioli Nonostante l'immane Quantità di soldi Che abbiamo speso Ne abbiamo anche guadagnati Veramente Uno sfacelo Va che roba Ok mettiamo qualche altra luce Anche fuori dal bagno Il problema è che Se le installi Dopo Che è scattata la notte Loro non si accendono Ogni secondo che passa Capisci che lo sviluppatore No però ci tiene Lo vedi che è uno che ci tiene Ma sto coso mi ha fatto guadagnare qualcosa Zero di 40 Ma devo riempirlo io di bottiglie Aspetta Cos'è sta storia Non me l'avevi detto Porca la miseria Dammi un secondo Anche se sono Oh porca miseria Uber tardi Compro un po' di bottiglie Di birra Aspetta che Zonama Non consegna quest'ora Non ti addormentare Dobbiamo picchiare un ladro Ma ti Faccio vedere io le lucine Faccio vedere io le stelle Di sicuro Senti facciamo che me ne vado a casa E tanti saluti Perché sto cominciando a triggerarmi Veramente un sacco male E devo anche Vedere di dare i regali A madre sorella Ah Fun fact La luce Non può essere installata Nella nostra casa E io ero convinto Di poterlo fare E non posso neanche Premere F Per rispedirlo al negozio Aspetta Abbiamo i fiori Per la nostra ragazza Donna tieni E ti ho comprato Un regalo L'amore è salito veramente un sacco Mentre invece Madre Ti ho comprato le droghe Che tanto Anelavi Ecco qua Lo stato mentale È migliorato un sacco Forse comincia a cucinare E a non Passare più l'intera giornata A contemplare La sua stessa morte Madre Si diverte così Allora Ritornando a noi Proprio non ti posso spedire là No Porca miseria Che volevo andare al bazar A comprare cose E io ci vado con gli scatoloni Salve signora Mi dai fiori Grazie Molto gentile Ah si aspetta Li dobbiamo spedire a casa A saperlo Che era così semplice Porca miseria L'avremmo potuto fare Tranquillamente Anche prima Ottimo Aspettate che riprendo lo scatolone Ed eccoci ritornati Alla stazione di servizio C'hai la mamma Trota No aspetta Volevo colpirti con lo scatolone Non è andato a buon fine Il mio piano Ok Molto meglio Di sicuro Dobbiamo resistere un altro giorno Con sto ladro rompipalle Che ci perseguita Senti fammi installare tutte le lucine Perché non ne posso Veramente Più Aspetta premi F Per mandare le scatole al magazzino Come scusa Posso spedirle direttamente in magazzino Non lo sapevo E voi direte Malone Non sapevo neanche che avessimo un magazzino Sì 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 Il magazzino È la zona In mezzo ai due bagni Questo ve lo garantisco Che è quello Ehi Guardalo tutto muscoloso E figattone lui È uscito vincitore dal Dal bagno Credevo che questo È il magazzino Ora mi stanno salendo i dubbi Ma vabbè È una zona delle pulizie Si dovrebbe occupare del resto Dei Dei gabinetti Oh ragazzi Sto bagno è decisamente messo meglio di prima Daisy ma ce la fai a gestire tutti sti clienti Perché ti vedo un attimino in crisi Magari possiamo velocizzare il tutto Assumendo una seconda cassiera E soprattutto Comprando una seconda cassa Comprami anche un altro frigorifero A sto punto E anche un paio di cestini Perché davvero mi stanno sporcando tutto il negozio Aspetta È vero che stavamo finendo il carburante C'è la gente che scalpitava in macchina Ottimo Scusate Portate pazienza È una giornata difficile per tutti Ammetto sta scrivania Qua in mezzo alle balle sta cominciando a darmi fastidio Senti Buttala lì Dopo se mi ricordo la porto a casa Aspetta 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 Fammi fare un upgrade Dei bidoni Anche qua in bagno Ottimo Ce n'era solo uno? Ero sicuro di averne comprato più di uno Ma vabbè dettagli Ah Ora possiamo mettere i bidoni letteralmente dovunque A saperlo prima Li possiamo mettere anche qua in mezzo Oh Che spettacolo figlioli Che spettacolo Allora fammene mettere un altro direttamente qua E upgradeata Doppia upgradeata Ottimo 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 E possiamo installare altri due registratori di cassa Sì ma mi sembra stupido metterlo dall'altra parte Glielo segnechiamo direttamente qui Si passa Un po' strettino eh Per dover di cronaca E in teoria possiamo raccogliere il denaro di entrambi Da un unico punto Ottimo Ottimo Aspetta Cos'hai rubato? Ho visto che hai rubato cose Vabbè si era tipo bagato il ladro Ma vabbè dettagli A sto punto assumiamo anche la cugina di secondo grado Con due stelline di Daisy E chi si è visto si è visto Così mi daranno anche una mano A rifornire i vari stand Allora Altro frigorifero da sgnaccare qua dentro Devo ancora capire sta migliorata Cosa cambi? Ma che differenza c'è? Questo non è migliorato e questo lo è Io non vedo nessuna differenza Oh vabbè senti se il gioco dice che è meglio Chi sono io? Per lamentarmi E casomai l'ultimo bidoncino Me lo sgnacate qui Perfetto Perché vedo che c'è già la lattina in parte Sti pezzenti maledetti Ottimo Sì signori Guardate di mane quantità di macchine in attesa Di essere servite Quindi fidatevi che una seconda cassiera È praticamente indispensabile Allora ritornando a noi Volevo testare il nostro distributore automatico Comprando una scatterva di birra Ma orca miseria è arrivata la polizia Ma tanto che ci siamo Direi di comprare tipo qualunque cosa Visto che abbiamo adesso due cassiere Una può stare dietro ai clienti E l'altra può tranquillamente rifornire gli stand Così la gente la smette di rompermi le balle Visto? Ciao Daisy nuova C'hai problemi con le braccia Daisy nuova Non te lo volevo dire Ma ti voglio bene comunque Allora vediamo un po' Dove poi sono Ecco qua le birre Se la mia teoria è corretta Ci possiamo rifornire forse il distributore automatico Oh Ok Sperando che qualcuno le vada a comprare Altrimenti tutto sto lavoro È praticamente inutile E ringraziamo la Daisy nuova Che mi sta rifornendo efficacemente Tutti i vari stand Diamogli una mano Perché questa è pur sempre Una parente della Daisy Non è che sia una famiglia Di intelligentone Ecco qua A posto Ragazzi ho appoggiato il gattino Che comunque è tantissimo Qua sulla finestra Ma Sì Sta diventando qualcosa di 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 Altamente inquietante Non voglio dire nulla Io santo Santo gattino Sì ragazze io vi voglio bene Però abbiamo L'olio per motore qui L'olio per motore là L'olio per motore lì E anche lassù Se non vi do io dei criteri Voi proprio non ve ne frega un cocchio Aspetta un secondo Domanda legittima I clienti come fanno ad arrivare qua Oh no Questo è un problema Le due casse non possono stare Una in parte all'altra Molto probabilmente Oh no 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 Daisy Allora fammi fare una cosa Signora si può levare dei maroni Quando a un secondo Porti pazienza Gesù Ora abbiamo comprato troppa roba E non so più nemmeno io dove coppio metterla Ok Ce l'ho fatta Restano giusto un po' di scatolette di tonno Però mi sa davvero che Di sto passo Io applico i filtri E chi si è visto si è visto Non pensavo che sarebbe stato necessario Però Potrebbe essere una cosa carina Allora compriamo anche il resto degli stand Visto che il denaro lo abbiamo Daisy smettila di servire i clienti per 5 secondi Che devo Spagar fuori questo coso Oh Alleluia E come dicevo Lo mettiamo invece da quest'altro lato Forse Adesso Riusciamo a mandare avanti La baracca Con due casse operative Oh mio dio Ho tre days in un unico luogo No eh Mi pare un po' eccessivo Oh non mi dite che abbiamo finito di nuovo la benza Ma porco canaglia 1200 dollari di benza Figlioli 5 secondi di faccia Ne di faccia 5 secondi di pausa E ho voluto dire una mazzolata in faccia Ok Mi si è un po' rovinata la scenetta Ma sono cose che capitano Allora come dicevo Cominciamo ad applicare i vari filtri Qua ci metti solamente il tonno Ok ma posso dirgli anche più di uno Ah No solo uno per volta Mi pare tipo Un pochettino eccessivo Scudi Signore Non l'avevo vista E voilà Però dicevo Così facendo almeno possiamo Gestire una stazione di servizio Di tutto Rispetto Altri 1400 dollari Olè Ma tanto voglio dire Con tutti i soldi che mi incassa la Daisy Daisy Altri 1700 E pensare che un tempo ero preoccupato Per chiedere 1000 dollari di prestito Alla banca Ah Quei tempi ormai sono passati Questo sgnaccalo direttamente qua Oh oh Mi sa che finchè non allargo il negozio Non possiamo mettere altri stand Oddio lo faccio Oddio lo faccio figlioli Ah Non riesco a trattenermi 2000 dollari Upgrade finale Oh wow Sì Questo è l'upgrade finale Del nostro negozio Che cos'è C'è sempre il piscio a terra Ma vabbè dettagli Oh wow Oh wow Che ok Oh wow Daisy dammi un secondo Che a sto punto ti sposto La cassa direttamente lì dietro O ancora meglio Aspetta Fammela spaccare di nuovo Ora ne possiamo mettere una qui Ed una dietro E i clienti in teoria dovrebbero poter passare in tutta tranquillità Signori che posticino adesso E' quasi irriconoscibile Vai di upgrade Ottimo Vai di upgrade Ottimo Vai di legnata sulle gengive Ottimo E continuiamo Wow A mettere anche Tut Era un vetro A mettere anche Tutti gli altri stand Direttamente all'interno Oh possiamo aggiungere un'altra fila di stand doppi Questa è un'ottima notizia Questa è veramente Una genialissima Notizia Altrimenti non riesco a farsare Tutte le mercanzie Oh amen Ormai come ho detto Facciamo l'upgrade di qui E upgrade di qua Mi pare un po' eccessivo Mettere una roba del genere Davanti all'entrata Però vabbè La Daisy dice che va bene La Daisy non è laureata È un imbecille Ma ci siamo capiti Oh oh E sto stand doppio Onde lo metto Vabbè Lascialo lì per adesso Quello che mi fa triggherare male E che mi hanno spostato all'esterno Uno dei frigoriferi E a me sta cosa Non piace proprio per nulla Ok probabilmente è una cagata Dimmi che lo posso mettere Comunque all'interno Sì Abbiamo un sacco Di spazio in più Per i frigoriferi Olè Come non fosse accaduto nulla Te le trasportiamo qua Tutte le nostre birre Oh Devo dire che possiamo fare La stessa cosa anche qua Con i vari filtri Oh Bella sta cosa Magari in futuro Ok facciamo una prova Facciamo un mega acquisto Di tipo qualunque cosa Ottimo E vediamo se i filtri Che ho applicato Su alcuni degli stand Effettivamente Verranno rispettati Non ne ho la più palida idea Pian pianino Li sto applicando Al resto degli stand Ma siamo appena Alla Alla c di patatine Cioè di chips Quindi O di sigarette Quindi ci vorrà ancora un bel No aspetta no No qua la soda no La soda va in frigo Quindi qua ci metti Il glass cleaner Ottimo E qua il motor oil Brava Daisy Ce la puoi fare Ho fiducia in te Non farmi minchiate Metti tutto sullo stesso stand E Uuuuh Sì non so perché ci siano Sti Sti detergenti Ma facciamo finta di nulla Togliamoli da qui Brava Daisy Ci hanno rubato il cibo Bastardo Antibastarda in questo caso I cereali della No no non era Nesquik Non mi ricordo neanche io La marca come si chiamasse E Spera dove che andavano Allora non sono convinto Che stiano rispettando L'ordine Perché qua doveva andarci Il pomodoro in scatola E C'è tutt'altro Il pomodoro è stato messo qua Ma porca miseria Se Anche uno solo degli stand Ha All Loro mettono come cocchio Gli pare È un Pfff Non ci voglio incocchiarmi Non ci voglio di incocchiarmi Daisy Ti sto odiando profondamente Aspetta che il ladro È già arrivato a rompere i maroni C'è il nuca da far schifo Porca la miseria Non ti hanno programmata bene Aspetta che intanto sposto anche questo E Sbado Sì ma stai calmo Oddio possiamo mettere davvero frigoriferi Anche dietro la Daisy Le congelo il culo Porca la miseria Ho trovato una falla in Matrix C'è un limite Non possiamo mettere più di un tot Di prodotti della stessa tipologia Su uno specifico stand Quindi che cocchio di senso ha Mettermi i filtri Se poi mi metti questi stessi limiti gioco È veramente una cosa Imbecille Vabbè senti Rimetti gli oggetti a cocchio Ci ho provato Come ho detto forse una funzionalità Che deve essere sistemata E verrà probabilmente fixata Nelle prossime versioni Figlioli Con un unico aggiornamento Sto gioco mi ha fatto dei passi avanti da gigante Che è qualcosa di incredibile Oh Davvero siamo partiti da una stazione di servizio Che era il paradiso della poraccitudine Abbiamo finito la benza Ah non c'è anche il denaro giusto E siamo arrivati ad un posto Quasi passabile Daisy Ho passato talmente tanto tempo A riordinare gli scaffali Che non mi sono accorto Che avevi guadagnato 5500 dollari Sono partite le lucine Oh Se resti sveglio ciccio Allora ragazzi Cioè rispetto a prima 100 volte meglio Siamo onesti Signore Che piacere vederla Grazie per la consegna tardiva Ottimo Per fortuna che c'erano pochi clienti Visto che ormai sono calate le tenebre E per fortuna che abbiamo assunto Nuovi dipendenti Figlioli Perché altrimenti Sarei andato completamente Fuori di cervello Però sì La tizia che fa le pulizie È una chiavica O è lenta Perché non lo so nemmeno io O passa decisamente Troppo tempo All'interno di sto Cocchio di bagno Mi sa che dobbiamo Montare un po' di luci Anche Anche qua dentro Cioè davvero Guardate i pavimenti Risplendono di pipì radioattiva Praticamente Non voglio lamentarmi Ma non è normale sta cosa La tizia che fa le pulizie Dove è finita Signora Salve A quanto pare Deve essere fuggita E ho notato solo adesso Che ci mancano Un bel po' di Porta carta igienica Dicevo ragazzi Siamo qua A fare i miracoli Come detto Già molto meglio di prima E furbescamente Non ho aumentato La Quantità di pompe E altrimenti La finivamo più Vediamo un po' Se posso migliorare qualcosa Ma Ogni volta che ci provo È occupato Da uno stracocchio di veicolo Questo l'abbiamo migliorato Lo scorso episodio Devo ancora capire Perché Tre serbatoi Questo popo mi Mi sfugge tantissimo Ok Daisy Dammi l'incasso finale Della giornata Ottimo Quando ritorneremo Domani mattina Potremo andare avanti Con il resto Degli upgrade Mio dio Ma davvero ragazzi Sono Non fiero di quello Che abbiamo ottenuto Ma molto di più Certo dobbiamo installare Un po' di lampioni Anche qua sulla strada Ah Adesso c'è anche il prezzo Dell'elettrico Non mi ero accorto In effetti dovrei aumentare Il quantitativo Olè Di rifornimenti Elettrici Che stai a fa' Alex tu dovresti essere A lavorare ciccio Ehm Peraltro Wow Questi sono nuovi Sono molto più carini adesso Premi è per ripararlo In che senso ripararlo Ma era rotto Come era rotto Perché nessuno me le dice Ste cose Ora si possono rompere I distributori Fermo la baracca Oh porca la miseria Questo Questo non lo sapevo Ok Sembrano Tutti funzionanti Però sta cosa Mica mi è piaciuta Ok Sentite sono quasi Le 10 di sera Io me ne torno a casa No No La scrivania Aspetta Mi sono dimenticato Di prendere quella cocchia Di scrivania Non è possibile È una maledizione Non posso continuare A lasciarla parcheggiata lì Che non ha il ben che minimo senso Voglio arredare casa Ne ho il diritto Cioè casa È un cesso Non è una casa Insomma ci siamo capiti Non abbiamo neanche la cucina Io non so neanche come facciamo mangiare Intanto è arrivata la polizia Ok Torno a casa Madre Madre Ho comprato una scrivania Con i soldi aziendali Ma vabbè dettagli Allora Se la posso mettere letteralmente Dove mi pare piace Tipo La possiamo sgnaccare Qua Ok È anche allineata correttamente Cosa vuoi di più della vita Madre Ho gli psicofarmaci per te Ecco qua Cucateli Stato mentale 74 Sì ma è sceso tantissimo Nel frattempo La mia donna è scesa A 46 di amore Ma se gli dai i fiorellini Ok 66 Se era 69 Lo preferivo il tesoro Madre Mi dicono dalla regia Che possiamo risolvere I suoi problemi mentali Con una martellata in testa È più economico Delle pillole Come dice No Lasciamo stare Vabbè Io ci ho provato Ad ogni modo Figlioli Direi che per questo episodio Ci possiamo fermare qua Anche perché sono in partita Da un'ora e tre quarti Oh mio dio Come vuole al tempo È qualcosa di incredibile Nei commenti ovviamente Fatemi sapere Cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Altrimenti vi mando a casa La Daisy Oppure la La donna delle pulizie Scalzista Avete visto mai E noi ci vedremo In un prossimo video Ciao ciao